È un bilancio positivo quello della mezza maratona delle due perle sia nei numeri sia per la prestazione atletica. 1.500 sono stati i podisti al via sul magnifico e panoramico circuito tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Il successo di partecipanti è stato arricchito dalla migliore prestazione sul percorso realizzata dall'azzurro Saeed El Otmani. Primo in un'ora, due minuti e 26 secondi. Spinto dal tifo del numeroso pubblico assiepato sul percorso, El Otmani è riuscito a migliorare il record stabilito da Stefano Larosa nel 2015. Il posto è fantastico, poi la gara comunque c'era il pubblico durante tutto il percorso, anche gli atleti che correvano, quindi sono stati d'aiuto per me che ero davanti. Secondo il keniano Samel Mvangi, terzo l'altro keniano Joash Koek. Nella categoria femminile, prima al traguardo la keniana Lenak Gerotic con 1 ora 12 minuti e 56 secondi. Mi piace correre da sola in questo percorso accanto al mare, mi fa sentire bene. Oltre ai risultati sul campo, la manifestazione ha ottenuto il gradimento di numerosi partecipanti affascinati dal percorso e dal panorama. Bella, è bellissima perché continui a rivedere i tuoi amici, continui a farti il tifo e questo ti traccino verso l'arrivo, bellissima. Sì, ho potuto dare col personale, sono contento, bellissima gara, tempo perfetto, grazie. Abito a Chivasso, provincia di Torino. Quindi Santa Margherita come la trovi? Bella, bellissima, suggestiva. 15 anni che la faccio, ogni anno sempre più bella. Bella, bellissima. Valza la pena. Stupenda, stupenda veramente. È la decima, la decima, sempre più bella. Bella, mezza di Portofino Santa, la migliore al mondo.